ecco che è appena scesa in acqua la prima di quattro batterie nella seconda troviamo Alice Michelini in corse a uno, Caterina Vanini in due, Serena Bratti in tre, Anna De Boni in quattro, Izzavide in cinque, Gianna Sorbi in sei, Chiara Pavani in sette, Sofia Baroni alla otto vediamo quindi anche i finalisti assoluti maschi eh per completare il tutto relativo ai cinquanta stile libero Mattia Zuin, Oliver Jacobsen, Giacomo Vettoretti, Luca Gobbo, Stefano Vacilotto, Francesco Anzanello, Michele Begro e Luca Sernagiotto che si prende l'ultimo posto utile ventiquattro e diciotto ricordo ai tecnici naturalmente eventuali rinunce a qualsiasi finale il prima possibile qui la impostazione per consentire anche l'ingresso delle riserve quindi completati i cinquanta stile libero ora distanze un po' più lunghe sui duecento metri prima dorso e poi ci saranno i duecento farfalle grazie a tutti grazie a tutti si va a completare quindi questa prima batteria due dorso ragazze due quarantaquattro e quarantaquattro in corsia quattro salata russio si laura vicuna alla partenza la seconda batteria grazie a tutti Grazie.